Allora sono finito in un campo da calcio e di un paesino sperduto che però in realtà non so esattamente quale paesino sia ma è pieno di paesini perché sto facendo praticamente diciamo la direzione verso Milano perché poi andrò verso le Dolomiti e madonna è pieno di moscerini mi stanno uccidendo ho preso Lautan ma comunque un po' funziona devo dire che è un po' funziona comunque sono partito madonna ragazzi che giornata sono cottissimo tra l'altro devo stare attento perché sono in un posto qua dietro c'è la come dire un qui c'è praticamente l'entrata dove sono arrivato io e secondo me è un posto per fare il diciamo camporella vieni qua con la macchina ti nascondi infatti spero proprio di no spero se no vabbè che devo fare basta che non facciano troppo casino comunque mi sono appiazzato qui diciamo in questo paesino sperduto perché pieno di paesini quindi esattamente non so quale sia il nome del paesino ho montato la tenda eccola qui e volevo cucinare però è il primo giorno sono talmente stanco e cotto che non ho grande voglia cioè nel senso ho fame o anche tanto sonno e quindi sto cercando di decidere un attimo prima che diventi completamente buio se mangiare o meno non lo so non lo so sono veramente cotto credo di sì comunque qualcosa almeno giusto per mangiare poi vado in tenda mi rilasso comincio a montare tutto mamma mia devo anche gonfiare il materassino quello dove devo dormire e prepararmi per la notte lavarmi i denti mamma mia comunque qui c'è invece un cespuglio molto grande con dentro credo un sacco di animali non so quali un sacco di passeri non so gufi non e quindi fanno dei rumori particolari e sembra che si stia avvicinando qualcuno per questa notte devo ricordarmi di non farmi prendere dal panico perché appunto insomma i rumori prevengono provengono da questa siepe qua e quindi è un campo da calcio oggi è martedì sera non dovrebbe quindi domani esserci nessuna partita di calcio per cui gli spettatori qua dietro spero che non si riempia se no esco e mi faranno tutti la ola perché uscirò vabbè che mi sveglio presto comunque ho chiesto insomma un bar sono andato in un bar ho chiesto se per caso c'era qualche partita di calcio qua del paese mi hanno detto no no domani no in effetti è mercoledì giorno di lavoro comunque io sono partito le sensazioni sono veramente strane perché sono è un miscuglio è un miscuglio di disagio di solitudine di paure di ansia però è anche gioia entusiasmo voglia di farlo questo viaggio oggi sono distrutto fisicamente ho fatto 50 km che per me sono tantissimi ho il culo a pezzi credetemi perché io non sono abituato lo sapete non ho fatto allenamento ma non sono un tipo da fare allenamenti non sono uno che si prepara atleticamente io sono uno che viaggia quindi però oggi ho fatto 50 km e quindi ho detto mamma mia ma li ho sentiti appena mi son fermato li ho sentiti infatti domani non credo che farò tutti questi chilometri mi alzo con calma e quindi poi proseguirò no dicevo che insomma è una sensazione incredibile nonostante l'abbia già fatto perché appunto già fatto questo viaggio però sono passati due anni e mi sembra di essere ritornato da capo cioè mi sembra di aver ricominciato da zero quindi tutte quelle paure quelle ansie che avevo il primo la prima volta che sono partito io oggi ho detto madonna gianni poi fortunatamente ciò che salva è un po' l'esperienza no quindi il fatto di averlo già fatto quindi capire come muoversi questo salva tantissimo quindi l'esperienza aiuta tanto a diciamo a governare un pochettino i sentimenti ecco mettiamola così io sono veramente distrutto ragazzi però felice adesso quello che farò è andare verso le dolomiti perché così vado a incontrare un po di amici e poi dopo le dolomiti ritornerò poi giù verso di nuovo verso il sud ma poi vabbè vi racconto bene tutto mamma mia ragazzi se avete domande e curiosità su anche la vita in tenda su che ne so faccio un esempio banale su come vabbè che non c'è bisogno che ve lo dica io perché ci sono persone molto più brave più esperte io non sono esperto non sono bravo quindi in realtà cioè affidatevi sempre ad altri ma se avete curiosità su come si vive in tenda come ci si organizza o queste robe qui scrivetemelo nei commenti così o poi magari vi rispondo facendo un video molto volentieri sento sempre quei passetti come se si stesse avvicinando qualcuno il problema è che se succede adesso e sono fuori dalla tenda e guardo non c'è problema se succede dopo quando sono dentro la tenda sento un rumore dico come dei passetti come se si stesse avvicinando qualcuno ansia mamma mia ragazzi di nuovo in tenda invece guardate lì che bici meravigliosa oggi è stata veramente una compagna di viaggio fantastica tra l'altro devo anche trovarle ancora un nome non glielo ancora dato ma in questi giorni pedalando mi verrà in mente qualcosa qui come vi dicevo quello è il pannello solare quello mi sono preso dei taralli però vorrei cucinare qualcosa giusto per consumare l'acqua e avere meno peso domani perché veramente oggi ero pesantissimo allora tra l'altro anche lì non lo so come mai sono così pesante rispetto all'ultima volta che mi ero alleggerito tanto però ripensando a quell'esperienza sono partito carichissimo cioè avevo un sacco di roba che poi mi sono reso conto durante il tragitto non mi serviva tutta quella roba e ho cominciato piano piano a regalare praticamente tutto e quindi sono arrivato alla fine del viaggio che era veramente legge avevo praticamente quasi solo la bici però è anche vero che ero in una zona di mare faceva caldo si avvicinava la stagione bella e quindi comunque ero più tranquillo adesso invece sto andando in montagna quindi ho già comunque qualcosetta un po più di pesante perché su magari se faccio qualche passo cosa che vorrei fare sicuramente farà freschetto ci saranno magari più o meno sui zero gradi due tre quattro che è freddissimo però si si può fare c'è un buon sacca pelo e quindi si può fare mamma mia bene ragazzi niente io vado provo a cucinare provo a cucinare qualcosa se avete domande scrivetemele grazie davvero di cuore per tutti i commenti tutti i messaggi di affetto per tutto il supporto che mi state dando per tutto nell'affetto penso mangiare solo per guardare un video fino alla fine e credo che sia veramente il miglior supporto per me e quindi quindi grazie sfatto noi ci vediamo domani prossimo video ciao